Musica Pamela Prati è pronta alle nozze. A maggio la sugar sposerà infatti il noto imprenditore romano Marco Caltagirone per poi trasferirsi con lui in America. Avevo già lasciato tutto, ha spiegato la Prati. La nostra televisione offre poco e non ci sono più varietà. Gli applausi non mi mancheranno, ne ho avuti abbastanza. Per prepararsi al matrimonio, la sugarl è volata a Marzalami in Egitto, dove si è goduta una giornata nel deserto. Dio ha creato le terre con i laghi e i fiumi perché l'uomo possa viverci, ha scritto sui social, e il deserto affinché possa ritrovare la sua anima. Una svolta mistica, quella della sugarl, che sembra aver finalmente trovato la strada per la felicità. La data esatta delle nozze è ancora segreta, ma la Prati non ha dubbi. Stavo aspettando lui, sapevo che sarebbe arrivato. Grazie per la visione!